Progetto Sport di Tutti Campobasso, la prima città molisana di inaugurare il parco. Tante attività, sport e sociale, sport e salute, con al centro la tematica della sensibilizzazione della comunità sui temi sociali, quale bullismo, razzismo, violenza sulle donne e corretti stili di vita. L'iniziativa, ideata da Sport e Salute e la Società dello Stato per la promozione dello sport e design e stili di vita, è in collaborazione con Anci. Grande soddisfazione espressa da Luca Praetano, assessore al Comune di Campobasso. Siamo assolutamente soddisfatti del risultato raggiunto. Oggi c'è l'inaugurazione del parco. Ci saranno numerose attività rivolte a tutti i cittadini nel fine settimana, in modo particolare a Iover 65, le donne e i bambini. Il programma verrà preso subito pubblico sui siti e sui canali di comunicazione del Comune. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questi partner di progetto Sport e Salute, Anci, ma soprattutto le società sportive che collaboreranno per far sì che queste attività potranno andare avanti. Siamo contentissimi perché siamo riusciti a mantenere una promessa. Era un impegno che avevamo preso con il Comune di Campobasso, ci siamo riusciti nei tempi giusti e regaleremo un anno, quindi 12 mesi di attività gratuita alla collettività in un parco, quindi all'area aperta, il modo migliore per poter fare attività fisica. Salute! Salute!